Buonasera, mister. Lei ieri, conferenza stampa, aveva messo tutti in guardia sulla forza del Cittadella e sui pericoli che questa gara poteva dare, regalare alla sua squadra. Le sue parole purtroppo sono state profetiche. Sì, no, sapevo della partita, delle difficoltà della partita e probabilmente noi abbiamo sbagliato tanto, sia negli appoggi, sia taticamente. Infatti abbiamo preso gol in contropiede, che non deve succedere. Ci sono delle giornate che non ci sei. Quando non sei in questo tipo di giornate, non puoi vincere ma non devi perdere. Ma nel compatto, corto, hai cercato di aspettare l'occasione e devi sfruttare l'occasione che ti capita. In questa partita non siamo stati bravi a fare questo. In generale, cosa non ha funzionato oggi rispetto, per esempio, alla gara del picco di La Spezia, ma anche con il Benevento? È funzionato, non siamo stati compatti, corti, non abbiamo fatto quello che dobbiamo fare e probabilmente alcune cose sono state sbagliate. In primis mi metto dentro io, nel senso che quando le cose non va bene, in primis è sempre l'allenatore che deve rispondere a questo. Perciò noi dobbiamo domani risettare tutto, pensare a Cosenza, prepararsi bene per quella partita lì. Qualche contrattempo fisico di qualche giocatore probabilmente ha creato anche qualche problema. Sì, è vero, è stata una settimana difficile, tanti giocatori ci sono allenati a giorni alterni perché purtroppo qualcuno si era fatto male, ma questo non deve essere un alibi. Dobbiamo pensare solo adesso a capire perché è successo questo. Quali sono le condizioni di Campagnaro in vista della gara di martedì a Cosenza? Io spero di averlo, spero che questo guaio muscolare gli passi per averlo a disposizione per martedì sera. Partita difficile al San Vito Marulla, ci vorrà un Pescara diverso da quello di oggi? Sicuramente molto diverso da quello che ho visto oggi. L'ultima mister, la cosa più bella di oggi, l'applauso finale della Curva Nord. Curva Nord è chi ha chiamato la squadra nonostante la sconfitta sotto il settore per applaudirla. Nei momenti difficili i tifosi devono davvero rappresentare il dodicesimo uomo in campo? Sì, li ringrazio molto per questo gesto che è molto importante per noi. nonostante abbia fatto una brutta partita, questo gesto dà un significato enorme e noi dovremo cercare di ripagare la fiducia dei nostri tifosi già da martedì sera. Grazie.